Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento di incontro. Quest'oggi l'incontro che facciamo è con un giovanissimo 17enne, Samuele Pollazzon, che ringrazio per essere in studio, e che ha realizzato questo libro che si intitola I Casi di Eleonora. 17 anni, sei molto giovane, quando ti è venuta la voglia di scrivere? Ecco, la passione per la scrittura l'ho avuta più o meno fin dal periodo degli elementari, dove mi ricordo che scrivevo dei temi molto lunghi, in cui c'era sempre, insieme al voto, due parentesi, dove era scritto Ti chiediamo di essere meno prolisso. Poi, alle medie, che è dove ho iniziato a scrivere di più, un mio amico mi aveva chiesto se volevamo scrivere un libro insieme, poi questo libro alla fine non è più stato scritto. Però ti è rimasta la voglia. Sì, praticamente è venuto a casa mia e aveva portato con sé la sua macchina da scrivere, e da qui è partita anche la mia passione per le macchine da scrivere. Praticamente abbiamo iniziato a comporre questo libro, poi tra gli impegni e altro non siamo riusciti a completarlo o andare avanti, però mi è rimasta la passione per la scrittura. Quindi è antica, non si potrebbe neanche trovare un'origine. Infatti abbiamo un convitato silenzioso che è questa cosa curiosa, perché un ragazzo di 17 anni si suppone nemmeno sappia che cos'è una macchina da scrivere. Come mai ti, a me ce l'hai già spiegato, mai più difficoltoso rispetto al computer? Se si sbaglia bisogna usare il cancellino. Perché ti è... Diciamo, sì, che a me piacciono tutti gli oggetti vintage, e comunque scrivere a macchina, e dover ricopiare la bozza della bozza della bozza, mi dà la possibilità di ragionare su determinate frasi o determinati passaggi, e poi magari andare a correggerli o a elaborare nuovi pensieri e correzioni. C'è tanto per capire che è proprio una passione, un amore per la macchina da scrivere. Nella quarta di copertina c'è sempre Samuele con questa macchina, che peraltro è una di quelle macchine che si possono portare in giro, quindi in qualsiasi posto dove tu vada ti può accompagnare. Sì, la porto sempre, diciamo, quando vado in giro, la porto sempre con me. E questa passione tu l'hai trasferita in questo libro, I casi di Eleonora, perché molto spesso compare una macchina da scrivere. Però sei anche dettagliato nel specificare il tipo di macchina da scrivere, gli errori che ci possono essere, che si consumano, i tasti oppure le asticelle? Sì, perché secondo me ognuno, come oggigiorno, ognuno ha un'auto che lo rappresenta. Anche per esempio gli scrittori una volta avevano una macchina da scrivere che li rappresentava. Per esempio nelle 13 pagine Eric Lask è uno scrittore trasandato, trascurato, e la sua macchina da scrivere lo rappresenta, perché comunque gli mancano dei martelletti, scrive tutto storto. Allora ti faccio una domanda che è sempre pericoloso fare. Perché scrivi? Io ho cominciato a fare questo mestiere perché dovevo liberare quello che avevo dentro di me, ma non riuscivo a liberarlo. Mi sono tornato avanti a un microfono e parlando riuscivo a dire tante cose che non sarei mai riuscito a dire a nessuno. Tu hai questo stesso mio percorso oppure differente? Diciamo che io principalmente scrivo perché mi piace scrivere. Durante il lockdown, quando ho scritto il mio primo libro, che è La Rosa dei Venti, era più per sfogarmi di quello che non potevo fare, perché comunque dovevo rimanere chiuso in casa. Quindi era più uno sfogo di... Infatti ci sono tantissimi personaggi nel libro La Rosa dei Venti e sono una sorta di amici immaginari che mi ero costruito. Mentre i casi di Eleonora, comunque, li ho scritti perché sì, mi piace scrivere, non è un motivo. Arriviamo anche al perché tu scrivi. Allora, La Rosa dei Venti, di cosa parla? È una nave inaffondabile, come probabilmente volevi essere tu nel periodo del lockdown. Ci siamo sentiti tutti molto vulnerabili. Parla, sì, appunto, di questa nave dalla costruzione fino all'ultimo viaggio con tutti i vari personaggi e le varie vicende che si sono tenute all'interno di questa nave e gli intrecci tra personaggi e... Poi ti sei buttato e hai cominciato ad avere questa passione un po' per il brivido, per l'horror e scrivi questo, il brivido della lettura. Com'è composto? Sono 17 racconti, molto brevi, alcuni sono solo di mezza facciata addirittura. e diciamo che quando l'ho iniziato a scrivere, cioè dire che l'ho iniziato a scrivere nel 2020 non è corretto, infatti l'avevo già, i racconti erano già stati scritti nel 2017 per partecipare a un concorso di lettura, eh sì, di scrittura. e io, diciamo, li ho ripresi e li ho ricorretti, portando, sì, diciamo, delle modifiche dove la scrittura era troppo elementare e ho fatto... Senti, io qui tra le mani ho questo libro di uno dei più famosi scrittori di horror che è Stephen King e questo è un libro talmente importante anche nella carriera di Stephen King non so quanti ne abbia scritto, un centinaio penso, che è Misery, Misery non deve morire. che è la storia di uno scrittore, forse qualcuno di voi ha visto anche il film che viene in modo casuale rapito da una donna che è una attenta lettrice dei suoi libri e gli chiede qual è il libro che sta scrivendo e parla di Misery. E lui, peraltro Stephen King fa morire molto spesso i protagonisti principali dei suoi libri e vuole uccidere Misery e lei gli dice no, tu non puoi ucciderla. Perché questo libro ti è così caro? Diciamo che io avevo visto il film un sacco di volte, infatti a un certo punto mi sembrava di essere come Annie Wilkes con i libri di Paul Sheldon e poi nell'estate in cui ho scritto le 13 pagine diciamo che avevo un blocco creativo e ho comprato il libro Misery non deve morire e appena ho iniziato a leggerlo subito mi è venuta l'ispirazione. Quindi diciamo che, sì, oltre ad essere appunto il mio libro preferito è anche... Tu è una specie di Angelo Custodio? Sì, ecco. Che ti è venuto in soccorso nel momento... Infatti alcuni particolari che ci sono in Misery ritornano nelle 13 pagine tipo la figura dello scrittore o comunque la casa nel bosco dove vive la sorella del protagonista e ritorna anche in Misery in Del Morito. Allora a proposito del blocco dello scrittore, hai già accusato di averlo avuto tempo fa mi pare che anche questo è un periodo nel quale hai difficoltà. Com'è che si vince questo tipo di difficoltà? Perché la voglia è tanta e che cosa vuol dire? Che non riesci a mettere una parola dietro l'altra oppure che il tuo racconto si perde già nella tua testa? No, diciamo il racconto c'è nella mia testa però non riesco a mettere, come hai detto te, le parole una dietro l'altra e questo comunque mi provoca un po' di rabbia anche e sinceramente non so come si batte il blocco creativo perché con la stesura delle 13 pagine era passato leggendo Misery e adesso proprio anche leggendo dei libri che poi anche lì vado a periodi quindi in questo periodo non riesco a scrivere e allo stesso tempo non riesco neanche a leggere e quindi sinceramente non so come... Le tue letture sono tutte su libri horror thriller oppure ti perdi anche, che ne so io, David Copperfield? No, diciamo che vario tra thriller, biografie, testi di storia, un po' varie come letture. Il romanticismo entra nel tuo modo di pensare, nel tuo modo di scrivere perché i personaggi ad esempio Leonora è una donna che ha avuto un passato tragico e per questo si butta nel lavoro avidamente, quasi in modo ossessivo. Diciamo che le opere del romanticismo non è che mi entusiasmino molto, mi piacciono più le opere fine del novecento. Senti, chiunque avrebbe il desiderio di scrivere però quando si scrive bisogna fare una scelta di base che è il racconto oppure il discorso diretto? Botta e risposta, tu usi il discorso diretto che non è per niente facile, ti viene istintivo o è proprio una scelta tecnica? Diciamo che mi viene istintivo come la maggior parte delle cose che scrivo, io non sto molto a pensare se è meglio usare il discorso diretto o il discorso indiretto o fare una descrizione piuttosto che non farla, diciamo che quello che penso lo metto sulla carta. Una curiosità te lo chiedo come lettore, quando uno scrive e dice ma che bella giornata, inarcando il sopracciglio, tu fai delle prove per poi descrivere questa cosa? Diciamo che mi immagino come potrebbe essere un discorso tra due persone che magari si incontrano e parlano di quell'argomento. Ma lo reciti anche oppure rimane solamente nella tua testa? No, rimane solamente nella mia testa. Era una curiosità. Tu ambienti i tuoi libri in Inghilterra, perché? Diciamo che secondo me non ha rilevanza dove si ambienti un racconto. Quindi sì, io ho scelto diciamo l'Inghilterra così perché mi ispirava. Cioè gli anni sessanta l'Inghilterra era un po' il centro del mondo. Non mi dimenticate di dire che questi sono tutti due racconti ambientati negli anni sessanta. Sì, negli anni sessanta. Diciamo era un po' il centro del mondo e quindi mi sembrava... Sì, però sei abbastanza dettagliato nella scrittura a partire da questa via a rivolare all'altra passando attraverso. Diciamo, le vie sono inventate. Per esempio i quartieri o le zone di Londra invece sono reali, esistono. E diciamo lì mi è entrato in aiuto un po' Google, un po' le cartine, un po' qualche consiglio della mia insegnante di inglese. A proposito di coloro che leggono prima che tu pubblichi, chi è il tuo correttore di boxe? Mia mamma. Tua madre? Sì, mi aiuto. Ma gli fai leggere pagina dopo pagina oppure finisci il libro e poi dici lo leggete assieme, lo legge da solo? Com'è che scegli questo momento difficile che è quello del giudizio? Diciamo che io prima finisco il libro, poi lo leggo ad alta voce e dopo lei lo riprende e magari apporta delle correzioni dove ci sono magari dei passaggi che non tornano. Che stentano. E dopo lei dice sempre che l'ultima correzione spetta a me, quindi se io non voglio cambiare quello che lei ha corretto sono libero di farlo. Di solito ascolto i suoi consigli. Ma tua madre scrive anche lei oppure ti fidi perché mamma è sempre mamma? Sì, mi fido ma dopo so che lei ha letto molto quindi sicuramente ha più esperienza di me nel... cioè non nello scrivere però nel leggere, nella lettura può darmi dei consigli. Senti, questa foto che tu hai messo nel libro dove sei tu la macchina da scrivere racconta di un ragazzo che ha fatto già una scelta di vita non da poco che è quella di dedicarsi a un'arte invece di buttare via il tempo che purtroppo nell'età in cui sei tu non è poi così difficile, sei nel periodo adolescenziale che in un libro che avevo letto era addirittura una malattia. Ti fa sentire bene o ti fa sentire diverso? Diciamo che adesso in questo momento, cioè che sono comunque in una crisi un po' adolescenziale, mi fa sentire un po' diverso dagli altri, comunque avere una passione che sì, non è da tutti. Certo, trovi una tua identità. Sì, mentre una volta sì, non ci facevo tanto caso a questo. Allora abbiamo poco tempo, come ti dicevo i 15 minuti passano molto velocemente. I casi di Eleonora, Eleonora è questa investigatrice, ha una vita che è stata toccata duramente in modo affettivo e si butta nel lavoro. Ha un suo compagno casuale, per la verità, nel primo racconto, che è un altro investigatore. Sono questi investigatori che si dedicano molto alla loro attività. Si trova per caso in una situazione e cerca di risolvere questo caso. E tu gli dai anche dei tempi, giorno dopo giorno, sembra quasi un diario che scrivi. È un motivo per cui, chiaramente non possiamo svelare come va a finire. Sì, non c'è un motivo per cui è diviso giorno per giorno, diciamo che è per scandire un po' il tempo nella storia. E il finale è un po' a sorpresa, perché alla fine dovreste andare, leggerete il libro sicuramente. Lei risolve il caso, ma lo risolve in un modo un po' particolare, o meglio, pensa di aver risolto il caso. Nelle 13 pagine, invece, c'è una cosa molto comune, che è la dissociazione, la doppia personalità, eccetera. C'è qualcosa che ti ha ispirato, un film che hai visto? Diciamo che, comunque, io studio Scienze Umane al liceo, ai licei Renier. Diciamo che il fatto che Eric Lask soffra di una depressione con sdoppiamento della personalità non è stato apportato dalla scuola. Diciamo, era più per rendere caratteristico il personaggio e fargli prendere una piega più, diciamo, da thriller. Non c'è un motivo particolare per cui soffra. Nemmeno lui, tutto sommato, sa che cosa sta facendo. È inconscio. È inconscio. L'aspetto è di Dottor Jekyll e Mister Hyde. Quindi vedi che siamo tornati però ai classici, anche se non si vuole, si torna comunque. No, Dottor Jekyll e Mister Hyde, l'ho letto. Dobbiamo chiudere, dove si può trovare il libro che, diciamo, è un'autoproduzione, essere stampato da sé. Allora si può trovare a Belluno, da Libreria Tarantola, dalla Libreria delle Due Zitelle e Libreria Mondadori, in via Mesoterra. A Feltre, alla Libreria Pilotti. A Valsella di Cadore, alla Libreria Finland. E in Agordo, alla Libreria Pollonia Gabriella. Vabbè, allora ti faccio i migliori auguri. Grazie. Io ho letto, come vi ho tutte le orecchiette, ho ammesso perché volevo farti tante altre domande, ma purtroppo il tempo non c'è. Avete conosciuto Samuele Pollazzon, questo è il suo terzo libro. Sono due racconti, veloci ma simpatici. Omicidio all'ultimo piano e le 13 pagine. In bocca al lupo, Samuele. Grazie a voi per averci seguito. Grazie a voi per averci seguito.